L'Ispettorato di Porto e l'Area de Manio dell'Unione dei Comuni del Trasimeno si dedicano alla gestione e alla tutela delle risorse lacustrie e costiere. Promuovono inoltre la sicurezza, l'efficienza e la cura dei porti e delle aree de Maniali. L'area tecnica gestisce i fondi comunitari e regionali per lo sviluppo del nostro territorio. L'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Trasimeno si occupa dei progetti di opere di area vasta previsti dai finanziamenti europei. Tali progetti sono frutto della coprogettazione tra i comuni associati e la regione dell'Umbria. L'Ufficio Tecnico dell'Unione svolge il ruolo di organismo intermedio. Si occupa dell'attestazione della regolarità delle opere eseguite che consentono ai comuni di essere rimborsati delle spese sostenute. L'Ispettorato di Porto, l'Area de Manio e Tecnica dell'Unione dei Comuni del Trasimeno si impegnano a garantire lo sviluppo economico e la salvaguardia dell'ambiente. Grazie 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 Grazie.